Oggi ci troviamo qui nel Palazzo di Borsa Italiana per presentare ai nostri soci quello che sicuramente per noi è un motivo di grande orgoglio, ovvero forse il più importante, anzi sicuramente il più importante piano di crescita per la nostra azienda. Riccardo Ruscalla, imprenditore, consigliere di amministrazione di e-starter, direi come da tradizione iniziamo con un giro di presentazione dei partner nuovi. La parola che riassume meglio il progetto di oggi è ambizione. Oggi raccontiamo dell'ambizione di 100 soci, manager e imprenditori di successo che vogliono fare qualcosa di bello per l'Italia, aiutare i migliori imprenditori a scalare nel mondo. La nostra missione è ambiziosa, riuscire ad attrarre, selezionare e investire per far crescere le UX di domani, i progetti ad alta capacità di crescita e con forte capacità di innovazione tecnologica.